Dall'Evangelo rivelato a Maria Valtorta, volume 9, capitolo 5, 8, 7, L'addio a Lazzaro, 2 marzo 1945. Gesù è a Betania. È sera. Una placida sera di aprile. Dalle ampie finestre della sala del convito si vede il giardino di Lazzaro tutto in fiore e, oltre, il frutteto che pare tutta una nuvola di petali lievi. Un profumo di verde novello, di un dolce amaro di fiori fruttiferi, di rose e altri fiori, si mescola ad un acuto profumo di tube rose, di mughetti, di gelsomini, mescolato in essenza rara, sopravvivenza del balsamo con cui Maria di Magdala ha profumato il suo Gesù, che ne ha ancora i capelli resi più scuri dall'unzione. Nella sala sono ancora Simone, Pietro, Matteo e Bartolomeo. Gli altri mancano, come fossero già usciti per incombenze. Maria di Magdala gira per la sala. Pare una farfalla attratta dalla luce. Non sa che volteggiare intorno al suo Gesù. Marta sorveglia i servi che levano le splendide stoviglie preziose sparse sulla mensa. Gesù posa il rotolo su un'alta credenza a intarsi d'avorio nel nero del legno lucido e dice «Lazzaro, vieni fuori. Ho bisogno di parlarti». «Subito, signore». E Lazzaro si alza dal suo sedile presso la finestra e segue Gesù nel giardino, in cui l'ultima luce del giorno si mesce al primo chiarissimo chiarore di luna. Gesù cammina dirigendosi oltre il giardino, là dove è il sepolcro che fu di Lazzaro e che ora mostra una grande cornice di rose tutte in fiore sulla sua bocca vuota. In alto di essa, sulla roccia lievemente inclinata, è scolpito «Lazzaro, vieni fuori». Gesù si ferma lì. La casa non si vede più, nascosta come è da alberi e siepi. Vi è un silenzio assoluto e assoluta solitudine. «Lazzaro, amico mio», chiede Gesù rimanendo in piedi di fronte al suo amico e fissandolo con un'ombra di sorriso nel volto molto smagrito e pallido più del consueto. «Lazzaro, amico mio, sai tu chi sono io?» «Tu?» «Ma sei Gesù di Nazareth, il mio dolce Gesù, il mio santo Gesù, il mio potente Gesù». «Questo per te. Ma per il mondo, chi sono io?» «Sei il messia d'Israele». «E poi?» «Sei il promesso, l'atteso. Ma perché mi chiedi questo? Dubiti della mia fede?» «No, Lazzaro, ma io ti voglio confidare una verità. Nessuno, fuorché mia madre è uno dei miei, la sa. Mia madre perché ella non ignora nulla. Uno perché compartecipe in questa cosa». Agli altri l'ho detta in questi tre anni che sono con me molte e molte volte, ma il loro amore ha fatto da nepente e da riparo alla verità annunciata. Non hanno potuto capire. Ed è bene che non abbiano capito, altrimenti per impedire un delitto ne avrebbero commesso un altro. Inutile, perché ciò che deve avvenire avverrebbe, nonostante ogni uccisione. Ma a te la voglio dire. «Dubiti che io ti ami meno di loro? Di quale delitto parli? Quale delitto deve avvenire? Parla in nome di Dio!» Lazzaro è agitato. «Parlo, sì. Non dubito del tuo amore. Tanto poco ne dubito che adesso affido e confido le mie volontà». «Oh mio Gesù, ma questo lo fa chi è prossimo a morte! Io l'ho fatto quando ho compreso che tu non venivi e che io dovevo morire». «E io devo morire!» Dice Gesù. «No!» Lazzaro ha un alto gemito. «Non gridare, che nessuno senta. Ho bisogno di parlare a te solo. Lazzaro, amico mio, sai tu che avviene in questo momento in cui tu sei presso a me, nell'amicizia fedele che mi desti fin dal primo momento e che non fu mai turbata da nessun motivo? Un uomo, insieme ad altri uomini, sta contrattando il prezzo dell'agnello. Sai che nome ha quell'agnello? «Ha nome Gesù di Nazareth». «No! I nemici ci sono, è vero. Ma non può uno venderti! Chi? Chi è?» «È uno dei miei. Non poteva che esser uno di quelli che io, più fortemente deluso e che, stanco di attendere, vuole liberarsi da colui che ormai non è più che un pericolo personale. Crede di rifarsi una stima, secondo il pensiero suo, presso i grandi del mondo. Sarà invece disprezzato dal mondo dei buoni e da quello dei delinquenti». «È arrivato a questa stanchezza di me, dell'attesa di ciò che con ogni mezzo ho cercato di raggiungere, la grandezza umana, perseguita prima nel Tempio, creduta di raggiungere col re d'Israele ed ora cercata nuovamente nel Tempio e presso i Romani. Spera! Ma Roma, se sa anche premiare i suoi servi fedeli, sa calpestare sotto il suo sprezzo i vili delatori. «Egli è stanco di me, dell'attesa, della soma che è l'essere buoni. Per chi è malvagio, l'essere, il dover fingere di essere buono, è una soma di un peso schiacciante. Può essere sostenuta per qualche tempo e poi non si può più e ci si libera di essa per tornare liberi. Liberi? Così credono i malvagi, così lui crede, ma libertà non è. L'essere di Dio è libertà. L'essere contro Dio è una prigionia di ceppie catene, di pesi e sferzate. Quale nessun galeotto arremo, quale nessuno schiavo alle costruzioni, la sopporta sotto la sferza dell'aguzzino. Chi è? Dimmelo! Chi è? Non serve. Sì che serve. Ah, non può essere che lui. L'uomo che è sempre stato una macchia nella tua schiera. L'uomo che anche poco fa ha offeso mia sorella. È Giuda di Kerioth. Giuda è scariota. No, è Satana. Dio ha preso carne in me, Gesù. Satana ha preso carne in lui, Giuda di Kerioth. Un giorno, molto lontano, qui in questo tuo giardino, io ho consolato un pianto ed ho scusato uno spirito caduto nel fango. Ho detto che la possessione è il contagio di Satana che inocula i suoi succhi nell'essere e lo snatura. Ho detto che è il connubio con Satana e con l'animalità di uno spirito. Io sarò posseduto dai miei santi ed essi saranno da me posseduti. Ma solo in Gesù Cristo è Dio qual è in cielo, perché io sono il Dio fatto carne. Una sola è l'incarnazione divina. Così, ugualmente, in uno solo sarà Satana, Lucifero, così com'è nel suo regno, perché solo nell'uccisore del figlio di Dio è Satana incarnato. Egli, mentre io qui ti parlo, è davanti al sinedrio e tratta e si impegna per la mia uccisione. Ma non è lui, è Satana. Ora ascolta, Lazzaro, amico fedele. Io ti chiedo alcuni piaceri. Tu non mi hai mai nulla negato. Il tuo amore fu tanto grande che, senza mai oltrepassare il rispetto, fu sempre attivo al mio fianco, con mille aiuti, con tanti previdenti aiuti e saggi consigli che io ho sempre accettato, perché vedevo nel tuo cuore un vero desiderio del mio bene. Oh, Signor mio, ma era la mia gioia occuparmi di Te. Che farò più ora, se non avrò da occuparmi del mio Maestro e Signore? Troppo, troppo poco mi hai permesso di fare. Il mio debito verso Te, che hai restituito, Maria, al mio amore e all'onore, e me alla vita, è tale che... Oh, perché mi hai richiamato da morte per farmi vivere quest'ora? Ormai tutto l'orrore della morte e tutta l'angoscia dello spirito, tentato di paura da Satana nel momento di presentarsi al Giudice Eterno, io l'avevo superato, ed era buio. Che hai, Gesù? Perché tremi e impallidisci ancor più di quanto tu non sia? Il tuo volto è pallido più di questa rosa di neve che languisce sotto la luna. Oh, Maestro, sembra che il sangue e la vita ti abbandonino. Sono infatti come uno che muore con le vene aperte. Tutta Gerusalemme, e voglio dire con ciò, tutti i nemici tra i potenti di Israele, è attaccata a me con avide bocche e mi aspira la vita e il sangue. Vogliono fare silenzio della voce che per tre anni li ha tormentati anche amandoli, perché ogni mia parola, anche se era parola d'amore, era scossa, che richiamava al risveglio la loro anima, e loro non volevano sentire questa loro anima, loro che l'hanno legata con la loro sensualità triplice. E non solo i grandi, ma tutta, tutta Gerusalemme sta per accanirsi sull'innocente e volerne la morte. E con Gerusalemme la Giudea, e con la Giudea la Perea, l'Idumea, la Decapoli, la Galilea, la Sirofenicia, Tutto, tutto Israele, convenuto a Sionne per il passaggio del Cristo da vita a morte. Lazzaro, tu che sei morto e che sei risorto, dimmi, cos'è il morire? Che provasti? Che ricordi? Il morire? Non ricordo esattamente che fu. Dopo la grande sofferenza successe un grande languore. Mi pareva di non soffrire più e di avere solo un grande sonno. Luce e rumore divenivano sempre più fiocchi e lontani. Dicono le sorelle e Massimino, il servitore, che io davo segno di aspra sofferenza, ma io non la ricordo. Già, la pietà del padre ottunde ai morenti il sensorio intellettuale, di modo che essi soffrano unicamente con la carne, che è quella che deve essere purificata da questo prepurgatorio che è l'agonia. Ma io... Ed è la morte che ricordi. Nulla, maestro. Ho uno spazio buio nello spirito, una zona vuota. Ho un'interruzione nel corso della mia vita che non so come riempire. Non ho ricordi. Se io guardassi nel fondo di quel buco nero che mi tenne per quattro giorni, pur essendo notte ed essendo in esso ombra, sentirei, se non vedrei, il gelo umido salire dalle sue viscere e ventarmi in faccia. È già una sensazione. Ma io, se penso a quei quattro giorni, non ho nulla. Nulla è la parola. Già, coloro che tornano non possono dire. Il mistero si svela volta per volta a colui che vi entra. Ma io, Lazzaro, io so cosa soffrirò. Io so che soffrirò in piena coscienza. Non vi sarà nessun addolcimento di bevande e di languore, per cui meno atroce mi diventi l'agonia. Io mi sentirò morire. Già lo sento. Muoio già, Lazzaro. Come uno malato di incurabile malattia, ho continuato a morire in questi trentatré anni. E sempre più il morire si è accelerato man mano che il tempo mi avvicinava a quest'ora. Prima era solo il morire del sapere dell'essere nato per essere redentore. Poi fu il morire di chi si vede combattuto, accusato, deriso, perseguitato, ostacolato. Che stanchezza! Poi il morire di avere di fianco, sempre più vicino, fino ad averlo abbrancato a me come una piovra al naufrago, colui che è il mio traditore. Che nausea! Ora muoio nello strazio del dover dire addio agli amici più cari e alla madre. Oh, maestro, tu piangi. So che hai pianto anche davanti al mio sepolcro perché mi amavi, ma ora tu piangi di nuovo. Sei tutto di gelo, hai le mani già fredde come un cadavere. Tu soffri, troppo tu soffri. Sono l'uomo, Lazzaro, non sono solo il Dio. Dell'uomo ho la sensibilità e gli affetti e l'anima mi si angoscia pensando alla madre. Eppure, io te lo dico, è divenuta tanto mostruosa questa mia tortura di subire la vicinanza del traditore, l'odio satanico di tutto un mondo, la sordità di coloro che, se non odiano, neppure sanno amare attivamente, perché amare attivamente è giungere ad essere quale l'amato vuole e insegna. E invece qui? Sì, molti mi amano, ma sono rimasti loro. Non hanno preso un altro io, per amor mio. Sai che ha saputo, fra i miei più intimi, snaturarsi per divenire di Cristo come Cristo vuole? Una sola. Tua sorella Maria. Lei è partita da una animalità completa e pervertita per giungere ad una spiritualità angelica e questo per unica forza d'amore. Tu l'hai redenta. Tutti li ho redenti con la parola. Ma solo lei si è mutata totalmente per attività d'amore. Ma dicevo, e tanto è mostruosa la mia sofferenza di tutte queste cose, che non sospiro altro che tutto sia compiuto. Le mie forze piegano. Sarà meno pesante la croce di questa tortura dello spirito e del sentimento. La croce! La croce! No! Oh, no! È troppo atroce! È troppo infamante! No! Lazzaro, che ha tenuto da qualche tempo tra le sue e le mani gelate di Gesù, ritto di fronte al suo maestro, le lascia andare e si accascia sul sedile di pietra che è lì vicino. Si chiude il viso tra le mani e piange desolatamente. Gesù gli si accosta, gli pone la mano sulle spalle scosse dai singhiozzi e dice «E che? Devo essere io? Che muoio? Colui che consola te che vivi? Amico, io ho bisogno di forza ed aiuto e te lo chiedo. Non ho che te che me lo possa dare. Gli altri è bene che non sappiano, perché se sapessero correrebbe del sangue e io non voglio che agnelli divengano lupi, neppure per amore dell'innocente». La madre, oh che trafittura parlare di lei, la madre ha già tanta angoscia, anche lei è una moritura esausta. Sono 33 anni che muore lei pure ed ora è tutta una piaga, come la vittima di un atroce supplizio. Ti giuro che ho combattuto fra la mente e il cuore, fra l'amore e la ragione, per decidere se era giusto allontanarla, rimandarla nella sua casa dove ella sempre sogna l'amore che l'ha resa madre. Gusta il sapore del suo bacio di fuoco, trasale nell'estasi di quel ricordo e con occhi d'anima sempre vede alitare l'aria percossa e smossa da un bagliore angelico. In Galilea la notizia della morte giungerà quasi al momento in cui io potrò dirle madre io sono il vincitore ma non posso no, non posso fare questo. Il povero Gesù, carico dei peccati del mondo, ha bisogno di un conforto e la madre me lo darà. L'ancora più povero mondo ha bisogno di due vittime perché perché l'uomo peccò con la donna e la donna deve redimere come l'uomo redime. Ma fino a che l'ora non sarà suonata io do alla madre un sorriso sicuro. e la trema lo so e la sente avvicinarsi la tortura lo so e ne repelle per naturale ribrezzo e per santo amore così come io repello alla morte perché sono un vivo che deve morire. Ma guai se sapesse che fra cinque giorni non giungerebbe viva a quell'ora ed io la voglio viva per trarre dalle sue labbra forza come trassi vita dal suo seno ed io la vuole sul mio calvario per mescolare l'acqua del pianto virginale al vino del sangue divino e celebrare la prima messa. Sai che sarà la messa? Non sai non puoi sapere sarà la mia morte applicata in perpetuo al genere umano vivente o penante non piangere Lazzaro ella è forte non piange ha pianto per tutta la sua vita di madre ora non piange più si è crocifissa il sorriso sul volto hai visto che volto le è venuto in questi ultimi tempi si è crocifissa il sorriso sul volto per confortare me ti chiedo di imitare mia madre non potevo più tenere da me solo il mio segreto mi sono guardato intorno cercando un amico sincero e sicuro ho incontrato il tuo sguardo leale ho detto a Lazzaro io quando tu avevi un macigno sul cuore ho rispettato il tuo segreto e l'ho difeso contro l'anche naturale curiosità del cuore Gesù si riferisce a quando Lazzaro soffriva molto perché la sorella era traviata ti chiedo lo stesso rispetto per il mio dopo dopo la mia morte tu lo dirai dirai questo colloquio perché si sappia che Gesù andò cosciente alla morte e alle note torture unì anche questa di non avere nulla ignorato né sulle persone né sul suo destino perché si sappia che mentre ancora poteva salvarsi non volle perché l'amore suo infinito per gli uomini non ardeva che di consumare il sacrificio per essi oh salvati maestro salvati io ti posso far fuggire questa notte stessa una volta sei pur fuggito in Egitto fuggi anche ora vieni andiamo prendiamo Maria con noi e le sorelle e andiamo nessuna delle mie ricchezze mi attrae lo sai la ricchezza mia è di Maria e di Marta sei tu andiamo Lazzaro allora sono fuggito perché non era l'ora ora è l'ora e resto e allora io vengo con te non ti lascio no tu resti qui posto posto che una licenza concede che chi è dentro la passeggiata di un sabato possa consumare l'agnello nella sua casa ecco che tu come sempre consumerai qui il tuo agnello però lasciami venire le sorelle per la mamma oh cosa ti celavano o martire le rose dell'amore divino l'abisso l'abisso e da esso ora salgono e si avventano le fiamme dell'odio a morterti il cuore le sorelle sì sono forti e attive e la mamma sarà un essere agonizzante curvo sulla mia spoglia Giovanni non basta è l'amore Giovanni ma è ancora immaturo o maturerà divenendo uomo nello strazio di questi prossimi giorni ma la donna ha bisogno delle donne sulle sue tremende ferite me le concedi ma tutto tutto sempre ti ho dato con gioia e solo mi dolevo che tu volessi così poco lo vedi da nessun altro ho accettato quanto dagli amici di betania questa è stata una delle accuse che l'ingiusto mi ha fatto più di una volta ma io trovavo qui fra voi tanto da consolare l'uomo da tutte le sue amarezze d'uomo a Nazareth era il dio che si racconsolava presso l'unica delizia di dio qui era l'uomo ed io prima di salire alla morte ti ringrazio amico fedele amoroso gentile premuroso riservato dotto discreto e generoso di tutto ti ringrazio il padre mio poi ti darà compenso tutto ho già avuto col tuo amore e con la redenzione di Maria oh no molto ancora devi avere e l'avrai ascolta non disperarti così dammi la tua intelligenza perché io possa dirti ciò che ancora ti chiedo tu resterai qui ad attendere no questo no perché Maria e Marta e non io perché non voglio che tu ti corrompa come tutti i maschi si corromperanno Gerusalemme nei giorni futuri sarà corrotta come lo è l'aria intorno ad una carogna putrida crepata all'improvviso per l'imprudente colpo di tallone di un passante ammorbata e ammorbante i suoi miasmi renderanno folli anche i meno crudeli anche i miei discepoli stessi essi fuggiranno e dove verranno nello sbigottimento loro da Lazzaro quante volte in questi tre anni essi sono venuti per cercare pane letto difesa ricovero e il maestro ora torneranno come pecore sbandate dal lupo che ha rapito il pastore correranno ad un ovile radunale rincuorale di loro che io le perdono ti affido il mio perdono per loro non avranno pace per essere fuggiti di loro di non cadere in un più grande peccato col disperare del mio perdono tutti fuggiranno tutti meno giovanni maestro maestro non mi chiederai di accogliere giuda fammi morire di tortura ma questo non me lo chiedere più volte la mia mano ha fremuto sulla mia spada ansiosa di uccidere l'obbrobrio della famiglia la lazaro si riferisce alla famiglia apostolica e non l'ho mai fatto perché non sono un violento fui solo tentato di farlo ma ti giuro che se rivedo giuda come un capro di delitto io lo sgozzo non lo vedrai mai più te lo giuro fuggirà non importa ho detto se lo vedrò ora dico io lo raggiungerò forse ai confini del mondo e lo ucciderò non lo devi considerare lazaro lo farò non lo farai perché dove egli sarà tu non potrai andare in seno al sinedrio nel santo anche là io lo raggiungerò e ucciderò non sarà la da erode sarò ucciso ma prima lo ucciderò sarà da satana e tu non sarai mai da satana ma deponi subito questo pensiero omicida perché altrimenti io ti lascio ma ma sì per te per te oh maestro 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 sì il tuo maestro accoglierai i discepoli li conforterai li ricondurrai verso la pace io sono la pace e anche dopo dopo tu li aiuterai betania sarà sempre betania finché l'odio non frugherà in questo focolare d'amore credendo di sperderne le fiamme e invece spargendole sul mondo per accenderlo tutto io ti benedico lazzaro per tutto quanto hai fatto e per tutto quello che farai nulla nulla tu mi hai tratto dalla morte e non mi permette di difenderti che ho fatto allora mi hai dato le tue case vedi era destino il primo alloggio in sionne in una terra che è tua l'ultimo ancora in una di esse era destino che io fossi il tuo ospite ma dalla morte non mi potresti difendere ti ho chiesto in principio di questo colloquio sai tu chi sono ora rispondo sono il redentore il redentore deve consumare il sacrificio sino all'ultima immolazione del resto credilo colui che salirà sulla croce e sarà esposto agli sguardi e agli schiene del mondo non sarà un vivo ma un morto io sono già un morto ucciso dal non amore più e prima che dalla tortura e ancora una cosa amico io domani all'aurora vado a gerusalemme e tu sentirai dire che sionne ha clamato come un trionfatore il suo re mansueto che entrerà in essa cavalcando un asinello non non illuda questo trionfo e non ti faccia giudicare che la sapienza che ti parla fu non sapiente in questa placida sera più ratto di astro che riga il cielo e scompare per spazi sconosciuti dileguerà il favore popolare e io fra cinque sere a questa stessa ora inizierò la tortura con un bacio d'inganno che aprirà le bocche domani osannanti in un coro di atroci bestemmie e di feroci voci di condanna sì lo avrai finalmente o città di sionne o popolo di israele l'agnello pasquale lo avrai in questo prossimo rito eccolo è la vittima preparata dai secoli l'amore l'ha generata preparandosi per talamo un seno in cui non fumacchia e l'amore la consuma ecco è la vittima conscia consapevole non come l'agnello che mentre il beccaio affila il coltello per sgozzarlo ancora bruca l'erbetta del prato ognaro urta col muso rosato contro il tondo capezzolo materno ma io sono l'agnello che cosciente dice addio alla vita alla madre agli amici e va al sacrificatore e dice eccomi io sono il cibo dell'uomo satana ha messo una fame che mai si è saziata che non si può saziare solo un cibo la sazia perché leva quella fame e quel cibo eccolo ecco uomo il tuo pane ecco il tuo vino consuma la tua pasqua o umanità passa il tuo mare rosso delle fiamme sataniche tinta del mio sangue tu passerai razza dell'uomo preservata dal fuoco infernale puoi passare i cieli premuti dal mio desiderio già socchiudono le eterne porte guardate o spiriti dei morti guardate o uomini viventi guardate o anime che sarete incorporate nei futuri guardate angeli del paradiso guardate demoni dell'inferno guarda o padre guarda o paraclito la vittima sorride non piange più tutto è detto addio amico teppure non ti vedrò più prima della morte diamoci il bacio da dio e non dubitare ti diranno era un folle era un demonio un mentitore è morto mentre diceva che era la vita a loro e specie a te stesso rispondi era ed è la verità e la vita è il vincitore della morte io lo so e non può esser l'eterno morto io lo attendo e non sarà consumato tutto l'olio nella lampada che l'amico tiene pronta per far luce al mondo convitato alle nozze del trionfatore che egli lo sposo tornerà e la luce questa volta non potrà mai più essere spenta credi questo Lazzaro ubbidisci al mio desiderio senti questo usignolo come canta dopo essersi taciuto per lo scoppio del tuo pianto così fa tu la tua anima dopo l'inevitabile pianto sull'ucciso canti l'inno sicuro della tua fede sii benedetto dal padre dal figlio dallo spirito santo dallo spirito